Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia. Lo sapete che il primo di aprile è il giorno degli scherzi? E lo sapete sicuramente, perché il primo di aprile è il pesce d'aprile. Ora, non sappiamo perché il primo di aprile sia il pesce. Qualcuno dice che sia una tradizione antichissima che arriva addirittura dai romani. Qualcuno invece dice che proprio il primo di aprile un vescovo salvò il papa dal soffocamento a causa di una lisca di pesce, cosa che spinse il pontefice a vietare i pesci quel giorno. Non è la cosa, passo appunto a indicare degli scherzi. La realtà è che non lo sappiamo. Una cosa che però sappiamo è che il primo di aprile del 1896, il Louvre, che come sapete è uno dei più famosi, se non forse il più famoso museo del mondo, subì uno scherzo molto molto costoso. Uno scherzo che a tutti gli effetti era una truffa, ma che mise quel museo, ripeto, uno dei più famosi musei del mondo, nel completo ridicolo. Perché come vedremo, quando si cerca di ottenere più di quello che già si ha, quando si cerca di superare qualcun altro, in questo caso un altro museo, a volte il rischio è di incappare in una truffa e di finire appunto nel ridicolo. Questa storia che vi racconterò oggi, ambientata ad aprile, come vedremo per vari motivi, è una storia che mi arriva da Ugo Poletti. Vi ricordate che ci ha già regalato due bellissime pillole legate ad Odessa, anche perché lui pubblica il Viodessa Journal, che è questo giornale in lingua inglese in cui parla appunto anche della storia di Odessa. Vi metto il link in descrizione, che ringrazio tantissimo anche per questa pillola, che come vedremo, anche questa è connessa con Odessa, che per curiosità ha la sua festa, la festa della città, proprio il primo di aprile. Il primo di aprile del 1896 il Louvre annuncia a Parigi e alla Francia al mondo di aver acquisito un manufatto incredibile, una bellissima corona scita, la vedete qui a fianco risalente addirittura al III secolo a.C. in condizioni di mantenimento semplicemente perfette. È una corona di forma conica che rappresenterebbe sulla parte tonda delle scene tratte dall'Iliade e che conterrebbe un'iscrizione, che riporta i senatori e i cittadini di Olbia regalano al grande re Saita Farnes. Chi era Saita Farnes? Beh, i curatori del Louvre e i suoi archeologi sono sicuri di saperlo. Saita Farnes era un re sciita che nel III secolo a.C. avrebbe attaccato la cittadina di Olbia, che non è Olbia in Italia ovviamente, ma era una colonia greca situata nel Mar Nero, alle foci del Niepr. Questa colonia, in cambio della salvezza per non essere distrutta, avrebbe donato un gran numero di suoi tesori proprio a questo sovrano e per ringraziarselo avrebbe fatto realizzare dai suoi maestri orafi questa bellissima corona conica, la quale alla base appunto rappresenta delle scene dell'Iliade, che è la parte più bella, e in cima invece delle scene di vita quotidiana sciita. Qua stiamo a rimarcare la connessione tra i due popoli. Come è arrivata questa corona al Louvre? Beh, in effetti è arrivata un pochettino per caso, perché i due uomini si sono presentati con la corona, dicendo di averla trovata, facendo degli scavi archeologici proprio nella parte meridionale della Russia, di averla portata al di fuori, di essere intenzionati a portarla a Londra, perché volendo venderla al British Museum, e di essersi fermati a Parigi, caso mai il Louvre avesse voluto acquistarla. Il Louvre non lo sa, ma in realtà questa corona, i due uomini che sono due fratelli Schapschnell e Leibe Hochmann, provo di aver pronunciato bene, a qualcuno hanno già provato a venderla, hanno già provato a venderla al Museo Imperiale di Vienna, ma lì, vuoi per il prezzo molto alto, vuoi perché in effetti qualche dubbio agli archeologi viennesi è venuto, hanno deciso di non venderla, e così si sono proprio trasferiti a Parigi. Ora, anche gli archeologi del Louvre inizialmente hanno dei dubbi su questa corona, sembra un po' troppo ben tenuta, un reperto di quasi 2000 anni, anzi più di 2000 anni, in condizioni praticamente perfette, peraltro provenienti da una zona nota per aver subito numerosi attacchi, numerosi passaggi di potere, che quindi difficilmente ha potuto mantenere delle strutture stabili, beh, è difficile da pensare, però qualcosina in effetti piace di questa corona, e quando i due uomini dicono, vabbè, se non la volete comprare nessun problema, andremo al British Museum, avevamo appuntamento con loro, e loro sicuramente la compreranno, beh, questo accende l'orgoglio francese. Cos'è il British Museum che non è il Louvre? Beh, se loro vogliono comprarla, la compreremo noi. Certo, 200.000 franchi non sono pochi, ma molto rapidamente, sfruttando il nome appunto del museo, sfruttando le conoscenze degli archeologi, il museo riesce a raccattare questi soldi tra vari banchieri parigini, che fanno una donazione proprio per il museo, acquistano la corona, e di lì a qualche settimana, proprio il primo di aprile, la presentano al mondo, come una delle più grandi scoperte degli ultimi anni, ma soprattutto come un pezzo di inestimabile valore destinato ad abbellire il Louvre per sempre. In realtà, i dubbi che avevano già manifestato gli archeologi viennesi molto rapidamente iniziano a manifestarli anche i giornali parigini, i quali in un caso del genere ci iniziano a sguazzare, che siano stati spesi tutti quei soldi per una corona di cui non c'è la certezza assoluta che sia reale, beh, qualcosina non piaceva. I giornali iniziano a far notare una serie di cose, che più o meno sono quelle che avevo già detto prima. Innanzitutto, la corona è troppo ben conservata. Quando viene poi esaminata, una volta esposta, tutti fanno notare come non abbia praticamente neanche un minimo di patina di invecchiamento, che sul reperto, ripeto, di 2000 anni, sarebbe quanto meno normale. E invece in questo caso non c'è. Il Louvre, quando riceve questa critica, risponde piccatissimo, dicendo Ma come? Certo che non è rovinata, perché è un reperto incredibile, e proprio per questo l'abbiamo pagata così tanto, perché è un reperto perfettamente conservato. Qualche altro archeologo, tra l'altro archeologi tedeschi, fanno notare come non è solo un problema di invecchiamento, ma anche un problema di come reperti di quel tipo, con quelle descrizioni, fatte con quella forma, in effetti non siano mai state trovate, e di come a tutti gli effetti sembri più che altro un collage di vari reperti già esistenti, comprese le immagini dell'Iliade, che in effetti erano presenti in altri reperti della stessa epoca greca. E cosa risponde il Louvre? Beh, sono archeologi tedeschi, non ce l'hanno con la corona, non vogliono veramente che noi togliamo la corona, sono archeologi che vogliono semplicemente prendere in giro la Francia, perché sono tedeschi. Quindi, non fidatevi di loro. E così, dal 1896 al 1903, la corona rimane esposta. Nel 1903, però, viene fuori qualcosa. L'editore di un quotidiano parigino che si chiamava l'Intransigean, viene infatti in possesso di una lettera con cui un orafo di Mosca, pensate il giro, gli fa sapere che lui quella Chiara l'ha già vista. L'ha già vista, mentre un suo collega e amico, di Odessa, quindi, attualmente in Ucraina, all'epoca parte dell'impero russo, ci stava lavorando. Ovviamente, non nel III secolo a.C., ma solamente 7-8 anni prima. Quell'orafo si chiamava Israel Dovber Rochumoski, ovviamente di religione ebraica, lo si capisce dal nome. E quando il console francese a Odessa lo contattò, mostrandogli in effetti le immagini della Chiara, questo non nascose nulla, ma disse chiaramente che era vero, quella Chiara l'aveva fatta lui. Ma non l'aveva fatta perché, in qualche modo, fosse implicato nella truffa, ma perché i due fratelli, gli stessi che avevano venduto la Chiara, la Chiara al Louvre, erano venuti da lui, due anni prima, rispetto alla Venita, qui nel 1894, chiedendogli di fare un oggetto di quel tipo in regalo per un loro compagno, amico, che di professione faceva l'archeologo. Era appassionato dell'arte sciita e avrebbe voluto una riproduzione, quanto più possibile fedele, di una possibile corona dell'epoca. Per renderla il più fedele possibile, avevano addirittura portato all'orafo dei libri che mostravano proprio delle illustrazioni, da cui l'orafo aveva tratto ispirazione per creare quello che a tutti gli effetti però era un oggetto unico, non una copia di una tiara, di una corona già esistente. Inizialmente, ancora una volta, al Louvre non gli credettero e chiesero che l'orafo li raggiungesse a Parigi per dimostrare la verità di quello che aveva detto. Ora, inizialmente questi però non aveva soldi per un viaggio così lungo, ma fu il consolato ad Odessa, il consolato francese ad Odessa, a pagargli il viaggio e a permettergli di raggiungere la Ville Lumière. Una volta qua, con ormai i giornali che si erano impossessati della storia, l'orafo iniziò a mostrare a tutti le immagini e i libri da cui aveva tratto ispirazione, immagini e libri che a tutti gli effetti facevano vedere esattamente le varie parti della tiara che lui aveva unito. Direte che a questo punto Louvre ammise l'errore? Assolutamente no, perché il suo direttore disse che poteva essere semplicemente un caso e che non si fidava che un orafo moderno riuscisse a fare una tiara di quel tipo e quindi chiese a Rocio Moschi di rifare la stessa tiara. Lo chiusero nel laboratorio del Louvre e gli diedero il materiale che serviva. Lui ci lavorò qualche settimana e alla fine invece vedere una tiara assolutamente identica a quella che era stata venduta al Louvre. A questo punto al museo non poterono più dire nulla e così nel 1903 la tiara venne presa e tolta dal museo del Louvre messa da parte e per un po' di tempo dimenticata. La storia potrebbe anche terminare qua ma in realtà ha un epilogo molto interessante. Ovviamente il nostro Rocio Moschi Israel Rocio Moschi in tutto questo era diventato famoso in Francia i giornali avevano parlato di lui si era in effetti visto come fosse un orafo molto valido d'altronde la tiara parlava per lui e così essendo diventato un po' alla moda molti industriali, molti banchieri iniziarono a chiedergli dei lavori a pagargli dei lavori fino a convincerlo a rimanere a Parigi e non tornare ad Odessa tanto che fece arrivare proprio da Odessa la famiglia, la moglie e i due figli e li fece trasferire con lui a Parigi. Negli anni successivi Rocio Moschi divenne sempre più apprezzato e sempre più famoso tanto da vincere dei premi continuare a fare maestro orafo quasi fino a nostra morte nel 1936 e alla fine lasciare la bottega e il suo lavoro ai due figli che negli anni successivi divennero famosi quasi tanto quanto il padre. Divenne talmente famoso il nostro Rocio Moschi che ad un certo punto divenne lui stesso un artista di cui ricordare le qualità e per questo dal museo, dal Louvre venne ritirata fuori la tiara originale da cui era originato tutto lo scandalo la quale non venne più esposta al Louvre ma venne bensì esposta al Museo delle Arti Figurative di Parigi laddove in effetti vengono esposti materiali più recenti rispetto al Louvre appunto risalenti all'Ottocento e all'inizio del ventesimo secolo. Rocio Moschi e la sua fama però rimasero anche legati a questi avvenimenti. Negli anni successivi vennero fatte due copie della tiara di cui una è conservata a Tel Aviv in onore appunto del suo essere israelita tra l'altro i due figli furono dei ferventi sionisti e parteciparono proprio alla nascita del movimento sionista quindi del ritorno degli ebrei in Palestina una seconda copia della tiara è invece conservata al British Museum e fa un po' ridere se ci pensate che quello fu il trucco che i due fratelli utilizzarono per vendere quello originale proprio in Francia. La tiara originale è però anche tornata al Louvre perché qualche anno fa è stata fatta una mostra dedicata alle più grosse fregature prese dal Louvre i più grossi reperti falsi mai esposti al Louvre e ovviamente la tiara è tornata uno delle migliori tra quelle mai successe. Voi mi direte e cosa c'entra aprire? Beh, il primo di aprile la tiara è stata venduta il primo di aprile è la festa nazionale ad Odessa e il 5 di aprile Rocciomoschi arrivò a Parigi e iniziò a dimostrare ufficialmente che tutto era semplicemente una fregatura o se volete pensarla in maniera un pochettino più leggera era un gigantesco scherzo. Bene, io mi fermo qua spero che questa piccola pidola vi sia piaciuta non possiamo sempre parlare di cose pesanti anzi queste sono quelle che francamente mi diverte anche di più a raccontare spero sia piaciuta anche a voi ringrazio come sempre Ugo Poletti sto quasi pensando di fare una piccola playlist di storie dedicate ad Odessa perché ormai veramente stiamo mettendole insieme ringrazio perché è sempre dell'ottimo materiale se non volete perdervi le prossime pillole leggere e un po' meno iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e per il resto vi ricordo sempre di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun registra ma è la fantasia di mettere le loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao